Buongiorno a tutti, grazie per il sostegno al canale, per le vostre iscrizioni, per il mi piace, per aver visualizzato il video precedente. Sono contento di iniziare questa nuova avventura con questo canale. Tutto nasce un po' da una riflessione, dal fatto che, essendo ormai un anno che non posso più andare in giro, magari portare le testimonianze della conversione, mi sono reso conto che dovevamo fare qualcosa per poter comunicare con le persone, anche a distanza. Anche se, devo dire, sono sempre stato un po' riluttante a utilizzare questo tipo di sistemi, quello dei social e quant'altro. Mi rendo conto che i tempi stanno cambiando nel bene e nel male, ed è giusto dare una certa presenza anche su questi canali. Quindi, mi piacerebbe raccontarvi il perché abbiamo deciso di fare un film sugli esorcismi. Certo, al più delle persone può sembrare strano parlare oggi, nel 2020, di possessione diabolica, di esorcismi. Sono cose che per la maggior parte delle persone rievocano ricordi, magari di studi scolastici, una visione della Chiesa molto più cupa e tetra. Eppure, devo dire che io ho assistito a diversi esorcismi ed è la cosa più lontana da quello che è l'immaginario comune. Un immaginario sicuramente aiutato dalla cinematografia, dalla paura il più delle volte. Ed è per questo che mi piacerebbe proprio far entrare nella conoscenza di questi aspetti, dove quello che gioca un ruolo veramente importante è il percorso di fede delle persone. Io, dopo la mia conversione, ho ricevuto una grazia grande, quella di essere chiamato come ausiliare da un esorcista e ho potuto seguirlo in diversi casi. Vi spiego un po' qual è il ruolo dell'ausiliare per chi non è addentro a questi argomenti. Solitamente, soprattutto nei casi magari un po' più impegnativi, un esorcista si avvale di aiuto di persone, di fedeli, che danno il loro aiuto nel tenere magari la persona affinché non si faccia male o non faccia male agli altri. E anche faccia un sostegno magari di accoglienza e quant'altro, no? E anche di preghiera personale, naturalmente non esorcistica. E da questa esperienza è nata una consapevolezza forte di che straordinario luogo di misericordia e di aiuto per le persone. La nostra fede ci chiama a lavorare su più livelli, no? Nella preghiera e nell'aiuto del prossimo. Durante l'esorcismo queste due cose si uniscono e quello che può sembrare un luogo di paura diventa un luogo di grande grazia e di misericordia. Quello che ho vissuto proprio durante questi esorcismi è vedere la grandiosità di Dio, l'azione forte e potente della mano di Dio. E anche ho scoperto quanto bisogno c'era di formare le persone a riguardo, perché si sa veramente poco di quello che succede durante gli esorcismi. E anche creare uno strumento che potesse essere utile sia per i fedeli, sia per i sacerdoti, perché purtroppo quello che è successo per diversi anni, è una cosa che sta anche cambiando, devo dire, anche grazie all'intervento molto forte di Don Amort, a sensibilizzare le persone su questi argomenti, anche per i sacerdoti, per i vescovi, no? A fare qualcosa. La cosa importante, secondo me, è capire che anche se oggi viviamo in un mondo che vuole spiegare tutto con la scienza, con la medicina, ci sono cose che attualmente a livello medico non sono spiegabili, ma non sono spiegabili non perché saranno spiegabili in futuro, ma perché non sono spiegabili con i mezzi della scienza, perché bisogna affidarsi a un piano diverso, a un piano più alto, quello della fede e quella dell'azione straordinaria. Quello che si vede durante un esorcismo è proprio questo, un'azione straordinaria di un'entità con un'intelligenza, è un'azione volontaria di questa entità, che porta a delle conseguenze che sono estremamente riconoscibili, non sono sintomi di epilessia o di schizofrenia, perché hanno un altro tipo di atteggiamento, no? E infatti ci sono dei medici e degli psicologi che sanno ben distinguere. Quindi quando solitamente viene fatta la critica alla Chiesa, che una volta si facevano gli esorcismi perché non c'era la psicanalisi, non si capiva che queste persone erano dei malati, che avevano delle malattie mentali e si interpretava tutto parlando del demonio, no? Allora, questo potrebbe anche essere vero in certi casi, perché effettivamente il discernimento non è una cosa semplice, tant'è che oggi gli esorcisti spesso si avvalgono di professionisti che sanno dare anche il loro parere, perché ci sono delle volte che è magari un po' difficile riconoscere la differenza tra questi due aspetti, ma è innegabile per chiunque abbia potuto assistere a un esorcismo capire che si sta parlando di qualcosa di diverso, perché una persona schizofrenica, una persona epilettica non può conoscere cose che non conosce, non può sapere delle cose che non sa, non può parlare delle lingue che non ha mai studiato, non può sollevarsi da terra, nessuna malattia psichica permette questo tipo di azioni. E spesso la critica che viene fatta è quella, eh ma noi conosciamo ben poco della nostra mente e noi utilizziamo una piccola parte bla 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 del cervello, cosa che non è assolutamente vera, è più una diceria da film e da bar, in verità qua bisogna ampliare un altro aspetto della nostra vita, che è l'aspetto spirituale. e rendersi conto che esiste un mondo spirituale, apre un mondo. Quindi il desiderio proprio con la creazione di questo film è di mettere un po' di puntini sulle i, su questi aspetti, spiegare quello che è la visione della fede cattolica riguardo questo argomento e la cosa che più mi preme è proprio far capire come la via della liberazione, che è una liberazione che tutti i cristiani devono fare, anche se non sono posseduti, perché l'influenza del male agisce sempre nella nostra vita in maniera ordinaria, la via della liberazione arriva attraverso la conversione, perché quando noi convertiamo, giriamo il nostro cuore da noi stessi, dal sentirsi Dio, a riconoscere un Dio, e allora lì succedono meraviglie. Grazie a tutti.